buonasera buonasera amici di history teller buonasera ascoltatori di history teller radio quella di questa sera è una puntata speciale è una puntata speciale perché dedicata in particolare a una persona non ho mai conosciuto personalmente questa persona che è un uomo però l'ho potuto ascoltare percepire attraverso gli occhi il cuore le parole i gesti lo spirito le emozioni di nadia la nostra nadia la nostra nadia che ogni giovedì a ogni puntata ci incanta con le sue parole con i suoi racconti giampiero se n'è andato ci ha lasciati temporaneamente tornerà presto questo lo so lo so per certo perciò questa sera al di là delle parole che possiamo dire tutti io nadia qualsiasi cosa che possa essere detta credo che ci sono tante cose da poter dire la prima è il fatto che noi questa sera siamo qui siamo qui con lui per lui insieme a lui e siamo qui con nadia per nadia insieme a nadia e al di là di quello che potrà dire nadia nel suo intervento al di là di quello che potrò dire io raccontando la puntata di questa sera ci sono delle parole importanti che voglio dedicare a lei a giampiero sono le parole di henry scott holland la morte non è niente sono solamente passato dall'altra parte è come se fossi nascosto nella stanza accanto io sono sempre io e tu sei sempre tu quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora chiamami con il nome che mi hai sempre dato che ti è familiare parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato non cambiare tono di voce non assumere un'aria solenne o triste continua a ridere di quello che ci faceva ridere di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme prega sorridi pensami il mio nome sia sempre la parola familiare di prima pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o dirti stessa la nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto è la stessa di prima c'è una continuità che non si spezza perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente solo perché sono fuori dalla tua vista non sono lontano sono dall'altra parte proprio dietro l'angolo rassicurati rassicurati va tutto bene ritroverai il mio cuore ne ritroverai la tenerezza purificata asciuga le tue lacrime e non piangere e non piangere se mi ami il tuo sorriso e la mia pace l'uomo ha sempre avvertito il bisogno di un dio anche in terra un totem umanizzato più facilmente accessibile che in alto è un dio che sa solleticare certe corde popolari per trasformare la politica in uno strumento di religione coatta a di là delle ragioni che in senso alato politico antropologico sociale vedono crescere determinati fenomeni ci piace qui mettere sotto la lente di ingrandimento quei personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile nel secolo appena trascorso osservati però sotto un'ottica diversa da quella che ha scatenato guerre e conflitti uomini che attraverso il fascino del potere hanno saputo esercitare la loro seduzione sull'immaginario femminino Adolf Hitler fu la grande calamitosa illusione del popolo tedesco gli occhi di ghiaggio del Godzilla nazionalsocialista furono capaci di fulminare uno scorcio di secolo iniettandolo di sangue nella relazione risolta verso un padre padrone ubriacone violento e una madre succube del marito Adolf crebbe nell'estrema fragilità emotiva di chi cerca un modello di identificazione bene descritto come un bambino sadico amorale paranoico psicopatico nella grande e più ampia letteratura di ordine psicoanalitico che si occupò del Führer nessuna delle numerose donne che ebbero la sventura di farsi incantare dal potere di un uomo corrotto e psichicamente disturbato sfuggì a suicidio in circostanze poco chiare l'ultima quell'Eva Brown dalla bellezza delicata sognante commessa del fotografo personale del Führer gli dedicò i suoi 17 anni nell'euforia superficiale e tutta giovanile del lusso Eva Brown Eva Paula Brown nasce a Monaco nel 1912 da madre cattolica e padre luterano a due sorelle cresce come molte altre ragazze frequentando il liceo ma sognando il mondo dello spettacolo il destino la porta a diventare 17 anni apprendista fotografa per Hoffman fotografo ufficiale del partito nazista e un mese dopo incontra Adolf Hitler non è un colpo di fulmine all'inizio Eva non rimane colpita a quello che definisce un signore di una certa età con dei buffi baffetti ma in seguito non diventa l'amante e comincia a frequentare il suo appartamento di nascosto dei suoi genitori addirittura il padre di Eva Fritz Brown che non ha simpatia per quello che definisce il faccendiere nazista scrive una lettera per chiedere ad Hitler di porre fine alla relazione con sua figlia la lettera viene distrutta probabilmente dalla stessa Eva e il 1932 la campagna elettorale costringe Hitler ad allontanarsi da Eva per lunghi periodi la donna non mostra interesse per la politica che peraltro considera la causa delle sue frequenti separazioni dall'amante e addirittura non si iscriverà mai al partito intanto Hitler continua a attraversare la Germania e a tenere comizi per lungo tempo fino a quanto il primo novembre assediata da una gelosia ossessiva e da insormontabili sicurezze insicurezze Eva Braun tenta per la prima volta il suicidio sparandosi un colpo alla gola e la pallottola manca di poco la carotide e sopravvive Hitler corre a suo capezzale solo un anno prima si era suicidata la nipote del Führer Angelica Maria Jerry Raubal figlia della sorella Angela Hitler secondo molti con la ragazza Hitler aveva intrattenuto una relazione malata e forse incestuosa che molti ritengono all'origine del folle gesto della giovane memora di quanto è successo a Geli e colpito dal gesto della Braun Hitler si avvicina a Eva che il 28 maggio nel 1935 tenta di nuovo il suicidio con dei sonniferi se solo non avessi mai posato gli occhi su di lui scrive ribadendo più volte la sua disperazione nel suo diario anche in questo caso la donna si salva e Hitler preoccupato forse anche per uno scandalo che non poteva permettersi le compra un cane e una villetta in un quartiere residenziale di Monaco in cui Eva si trasferisce con la sorella minore Greti è una donna dinamica che ama nuotare sciare andare in bicicletta e che si dedica ad ogni possibile sport in modo quasi ossessivo Hitler è sempre più assente e cerca di compensare la distanza dalla donna ricoprendola di denaro mentre il destino dell'Europa si dirige verso l'ora più buia Eva indossa scarpe di Ferragamo il 30 aprile 1945 sotto le bombe alleate le granate russe Adolf Hitler ed Eva Braun si sposano alla presenza di Joseph Goebbels e Martin Bormann due ore dopo il Führer dette il suo testamento sebbene non abbia mai pensato in anni di battaglia ad affrontare la responsabilità del matrimonio ho scelto di sposare questa giovane che mi ha raggiunto per condividere il mio destino sceglie di morire con me come mia moglie Eva scrive invece alla sorella sostenendo di essere felice di morire accanto a Hitler e soprattutto di evitare così il caos imminente che si preannuncia il fascino malato di Hitler trovava il parallelo nella seduzione altrimenti esercitata sulle donne dall'alleato italiano Benito Mussolini uomo di sana e robusta costituzione sia a livello fisico che psichico ma forse di simile tendenza alla megalomania e al narcisismo si disse che proprio Hitler per la prima volta in visita nel 34 in Italia a Venezia rimase impressionato dal duce sentendosi goffo e insufficiente lui all'inizio del suo cancellierato con un modesto impermeabile bianco di fronte all'alto uniforme del suo omologo alla sua voce stentore al suo apparato alla perfetta organizzazione della sfilata militare fumo negli occhi tutto faceva pensare all'Italia come una grande nazione in barba Churchill che l'aveva definita il ventremolle dell'Europa e il grande terrificante sogno di un piccolo austriaco prese le mosse da un desiderio di prona emulazione il famoso balcone di piazza Venezia era il pulpito di una chiesa in plein air il palcoscenico di un teatro in piatta stabile folla oceanica che si abbeverava alla retorica alle pose ieratiche dense di pause sospensive alla gestualità ampollosa di un uomo che si preoccupava in amichevole complicità con Hitler della sua calvizia e della sua bassa statura ma al contrario dell'alleato tedesco Mussolini si serviva di una capacità di comunicazione intesa nel senso più attuale quello del contatto diretto con i cittadini facendo spesso ricorso durante i bagni di folla di improvvisate i performance come denudarsi dalla cintola in su permette in risalto la sua muscolatura e incitare così la gioventù di una sana pratica sportiva in realtà anche la Germania aveva fatto dello sport uno strumento di potenza politica ma Hitler non si sarebbe mai sognato di mettere in vetrina una personale fisicità che purtroppo non gli apparteneva era innegabile dunque il grande sex appeal di Mussolini che faceva cadere le donne ai suoi piedi e dall'entrata le vie per il prepiscito dietro piazza Venezia era un via vai di donne alle ore più impensate secondo gli impegni del duce amori fugaci amori prezzolati o amori di convenienza politica donne disposte a giacere anche per una sola mezz'ora nello studio dietro quel balcone per soddisfare gli appetiti piuttosto prepotenti di un sanguigno romagnolo doc la vera moglie di Mussolini fu Margherita Frassini coniugata Sarfatti donna Rachele invece fu solo la sposa di Venito quando capitò il cortocircuito lui in ospedale ferito in guerra la signora Mussolini a capezzale all'arrivo della Sarfatti si alzò e rovinò in un rugito vado io a ricevere questa tua moglie è una che nasce ogni mattina a Sarfatti la regina dell'arte nell'Italia fascista e la storia d'amore che ne traspare con gli occhi di oggi diventa presaggio di tragedie di solitudine il destino proprio degli esseri che si concludono in un fallimento lei è veneziana ed ebrea è la più internazionale tra gli italiani ama un uomo che così dice di se stesso sono in cerca di un buon senso e voglio ucciderlo lui figlio del fabbro dagli occhiacci rivoluzionari ama una donna la cui brama ultima vergata nel testamento è risolta in una sola richiesta un pugnale che possa confermandola nella morte trafiggere il cuore prima di essere sepolta alta sottile collo di cigno abito azzurro chiaro e mantello di armellino Margherita è quella che Irene Brin la più charmant tra le firme del giornalismo descrive nella bellezza candida e dorata trionfante sul finire del secolo scorso lui magro contadino testa calda per dirla con le parole di Anna Kulishev anarchica e fondatrice del partito socialista le è un poetino che ha letto dice sarà Cesare Sarfatti il marito di lei ad accorgersi della qualità speciale di quel rivoluzionario di predappio segnati questo Mussolini scrive in un biglietto Margherita sarà il prossimo uomo lui diventerà Mussolini grazie a lei sarà infatti Margherita il pigmalione del fondatore del fascismo gli insegnerà il mondo l'arte e la disinvoltura in un'epoca dove il pappagallo sul pugno della Marchesa Luisa Casati acconciata da Leon Blasch va a concludersi in trincea non senza aver avuto a modo di sipario un ventaglio di lunghe piume d'acquila sarà lei nel frattempo che Donna Rachele resterà socialista ad accompagnarlo verso il fascismo e sarà di certo lei e Ferrari lo spiega bene nel libro a imporre la novità ideologica nella fornace novecentesca quel che per il comunismo e l'utopia il compimento della dittatura del proletariato per il fascismo come atto rivoluzionario e l'avanguardia il piccolo mondo antico Antonio Focazzaro una figura centrale nella formazione di Margherita diventa la grande metropoli contemporanea ed è lei ad essere presente quando il 31 ottobre nel 1932 a Roma Guglielmo Marconi schiacciando un pulsante accende di luce la gigantesca statua di Cristo nella baia di Rio de Janeiro e sarà lei ebrea a vivere per intero la tragedia della guerra perseguitata pure lei quando ancora separati dal loro stesso destino tutto passa a lui dire ancora grazie amore di quella tristezza ed entriamo quindi ora nel vivo della trasmissione che questa sera è dedicata alle donne ma non donne comuni semmai donne